allora ragazzi eccoci qui collegamento il routing del segnale che utilizzo per fare i profili la chitarra in questo caso un custom shop les Paul è collegata direttamente nell'input del camper mentre poi il segnale segue questo schema che vi faccio vedere allora ho girato il camper così si vede un po' meglio allora il segnale parte da qua dal send l'uscita send del camper con cavi sempre true connection di Brunetti e Quick Lock questo cavo arriva nell'input della pedaliera questo semplicemente perché alcuni profili li ho fatti utilizzando il suono clean dell'amplificatore miscelandolo o allo cd o al riot o al black star a valvole no compressori no tremoli no delay reverberi o chorus solo distorsori quindi input della pedaliera dalla pedaliera esco e vado nell'input del amplificatore dopodichè l'amplificatore è cablato nell'altra sala dentro all'iso box come vi ho fatto vedere nell'altro video con l'md 421 lsm 57 il segnale mi torna indietro nei canon e mi va dentro al focus right isa 2 eccolo qua adesso non è più settato ma è lui questo perché ho anche il tl audio ma preferisco andare qui perché così ho due pre totalmente uguali con cui gestire l'ingresso dal pre entro nella moto 8 pre che mi fa da interfaccia ho praticamente disattivato i suoi preamplificatori in maniera da utilizzare al meglio proprio il focus right dall'interfaccia quindi scheda audio passo dentro a logic allora dentro a logic si può lavorare in due maniere cioè o crei una traccia stereo quindi i due microfoni arrivano direttamente entrambi dentro un'unica traccia oppure un microfono su una traccia mono e un altro microfono su un'altra traccia mono intanto in ogni caso poi vanno nell'output e si sommano dopo la comodità del mono è che uno può escludere e ascoltare ogni microfono in solo e sentire come suona io ormai ho già un po' l'occhio vado direttamente dentro una stereo aggiungo sempre un EQ per controllare che non ci siano magari dei rigonfiamenti o delle frequenze che sarebbero extra per quanto riguarda un profilo da qui le si possono controllare o togliere il segnale dopo logic mi arriva dentro al mixer un macchi semplicissimo non serve avere i canali o chissà che robe lo mando dentro a un AUX quindi sparo fuori il segnale dal mixer tanto l'AUX è stereo e mi collego quindi di nuovo dentro al camper all'alternative scusami ho sbagliato ecco qua return input del camper quindi il camper torna a ricevere il segnale dei due microfoni elaborati da logic tornando al mixer dopo ho una piccola comodità che in questo canale ho l'uscita della scheda audio quindi diciamo il suono in un qualche modo dell'amplificatore che posso mettere in mute mentre da questa parte ho il main out del camper e quindi da qua posso ascoltare solo il camper quindi posso confrontare in maniera proprio secondo me il migliore possibile escludendo uno o l'altro i due profili e confrontarli assieme per quanto riguarda l'ascolto accennavo nell'altro video ai monitor da studio piuttosto che monitor o casse live cerco di fare a volte anche due profili uno già più prodotto più editato con tanto di effetti con tanto di veramente anche limature nelle varie frequenze ascoltando più da casse da studio in maniera che il suono sia già più limato possibile e pensato per una ripresa e per un mixaggio mentre da queste qua che ovviamente è sempre doppia do sul volume a manetta simulando una situazione live cercando di capire se il mio profilo risponde quasi come se uscisse da una cassa Marshall o da una qualsiasi cassa dell'ampli sentire la risposta le frequenze sentire com'è il suono quindi a volte salvi i profili in maniera differente direi di avervi mostrato un po' qual è il routing del segnale che ho utilizzato con il mio materiale a disposizione per creare alcuni profili direi di farvi un altro video con alcune migliorie o applicazioni di effetti ai profili nudi e crudi che ho fatto con l'Orange e vi rinnovo l'invito a seguirmi sulla mia pagina Facebook che li ha garutti ufficiari e vi rinnovo l'invito